Una volta due bambine che vivevano in una casa. Papà, sei tollato! Sei così bella. Resta così per sempre. Ehi Will, vieni a vedere. Guarda, chissà dove sono ora. Tesoro, ti senti bene? Qualcosa ti spaventa? C'è qualcosa là fuori. Che state facendo qui? Abitate qui e non sapete degli omicidi. Quali omicidi? Tutta la famiglia è stata uccisa, il padre è sopravvissuto. Chi è stato? I sospetti caddero sul padre. Peter Ward. La casa del massacro. Tutti quelli che abitano in questa casa vengono uccisi. Perché i vicini non ci hanno detto niente? La casa è rimasta vuota per tanto tempo. Dovrei parlare con lei di uno dei vostri pazienti, Peter Ward. Assicuriamoci di parlare dello stesso uomo. Quello non è Peter Ward. Quello sono io. Sei stato in quest'istituto per cinque anni, Peter. No. Ti abbiamo dimesso sette giorni fa. Ti odio quando te ne vai. Guarda. Cosa? Tu e le bambine siete morte. Sono stato io? No. Che cosa ti ricordi? Ho lasciato mia moglie e le mie figlie a casa stamattina. Chi è alla porta? C'è qualcosa di strano in questa casa. Non puoi restare. Ti ucciderò. Peter Ward è tornato! C'erano una volta due bambine che vivevano in una casa. C'erano un po Intelli. C'erano di testa. Perché viviamo in前